dai brigò, dai brigò, dai brigò, 34 brigò brigò nooo, guarda eccoci tornati su un nuovo video e non saremo rolling gamers se non staremo sul pezzo, cioè stiamo sul pezzo da più o meno data, da più o meno una quindicina di giorni tutto youtube gioca a Fall Guys che ci ricorda tantissimo, a me ricorda tantissimo MyDireBanzai, ma un po' tutti MyDireBanzai esatto con me c'è il nostro carissimo amico Breco92, giusto Breco? Salve a tutti, sono Breco92 che a questo gioco sono Fall Guys 9746 esatto, io sono Fall Guys 1869 nel dettaglio salutiamo la mamma di Gianluca mamma, tuo fratello abbiamo detto di no perché non è manco più iscritto quindi fratello di Brecoca no, lo ripudio lo ripudio, chi salutiamo della tua famiglia? chi ti segue? tua madre? salutiamo il gatto Max salutiamo Aldo, a volte ci segue Aldo, ciao Aldo, Aldo è un grande Aldo lo apprezzo anch'io Aldo per gli amici rondella esatto vai Breco, dobbiamo qualificarci tutti e due io già sono alla seconda parte comunque ero la seconda parte si Breco, si che ti sto dietro non, non sto riuscendo ad andare a terza Breco, ti sto dietro sono uno che è la mia ombra si, si, ti sta tenendo per mano io vedo che ti tiene per mano che quando salto cade un quattro eccomi Breco, ti sto dietro, è fatta l'hai visto, l'hai visto corri, corri, corri no si è cascato proprio lalla, non ci credo cassificato, dai Breco, non mi puoi abbandonare io ci sto, Breco dai, dai Breco la seconda manche è vai, qualcosa non di squadra non quello con le code che odiamo io odio almeno ho fatto quello delle mele delle frutte che si cadevano addosso sulla salita e basta gatecrush quello di prima ok devi prendere il tempismo giusto Breco eh io ma dai ci proviamo tre dos uno vai Breco ci sei Breco si sto facendo vincere una mischia da stanno e io penso il muro che io sto giro è lì la del muro no, lì qua guarda è fatta sono passato quarto quinto forse è fatta Breco si no non ci credo sei quello che stava sulla linea no, no non so quello dietro però ero riuscito a saltare ho fatto un grande passo in avanti ragazzi perché non mi viene niente 169 ho fatto c'è preso c'è attenzione c'ha la tecnica il ragazzo c'ha la tecnica è un modo un po' veloce però quello verde continua a aumentare sempre di più tanto c'è la tecnica è questa sì c'è la tecnica c'è la tecnica oh io mi permetto di iniziare a dirne una io ne voglio dire una subito il tuo vecchio personaggio di DnD è vivo è vivo è vivo ed è su still life da quello che abbiamo potuto capire esatto 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 anche se penso che alla fine di tutto quando farà una brutta fine però tu come nuovo personaggio come partino come il vecchio personaggio eccolo ti seguo infatti non era non capivo vada vada non riesco a passare ma è stato andato a me il pote ma è stato camminato tutto straiato ma per chi non avesse mai fatto questa mancia è un spingi la porta alcune purtroppo sono bloccate quindi dai delle facciate abnormi e io questa non sempre mi classifico però occhio eh che sta apprendendo che sta apprendendo un po' credo tutti un armario di roba ora sta la cascata dai brego non ti vedo io non ti vedo ma sta al traguardo brego ci sei brego? sì sì ho passato sopra tutti grande brego grande a me tavo mi tuffavo perché sulle botte saltavo e mi tuffavo e tutti mi davano le botte e mi rialzavo molto più avanti la tecnica era quella questa non possiamo perdere questi qualificati entrambi e poi si va a fare quella squadra la parte finale non l'ho mai capita la parte finale però il resto è figo brego a casa sei al mio fianco quindi andiamo a sinistra qua 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 sempre dritto vabbè boeing qualcuno mi ha spinto va bene oh forza bravi sto dietro vabbè magari c'è le spie le botte le due con davanti secondo me non ci classifichiamo nessuno di due brego perché vabbè questa è la parte più strada questa è la parte più bella per me questo passo qua esatto in modo dove vado proprio sotto apriamo il deck allo di sotto oddio sto schivando le palle tipo matrix avete visto ragazzi vabbè dai vabbè dai vabbè non mi fanno rialzare va bene 12 13 13 15 ci sto ci sto brego io so classificato tu 26 grande brego riaffianco a me dai brego la partita buona e fa cadere sotto per colpa di uno stronzo che andiamo in finale grido un chilo e mezzo siamo rossi siamo rossi rossi uno eh sì blu non ma vabbè vabbè la arma che cosa ragazzi io la dici a tu filippo sta no? che usciamolo, che usciamolo è dura eh, la vedo dura madonna quello duro come l'ho preso vai vai è fatta è fatta passiamo anche quella arriviamo a 20 persone rimanenti 30 dai ebrecocca eh, dai ci mancano due manche, facciamolo a finale insieme cerchiamo, tail tag quello della coda, però è un survival quindi non è a team orcocane come un survival? si, non è a team ci saranno non so quante code, ma vediamo 5, 10 forse e a fine un minuto e mezzo bisogna resistere no, pure tu stai rincorre, no l'avevo preso, ma do se l'avevo preso tutta la vita mi addosso a me, mi addosso a me mi addosso a me, ma perché? è una cosa più riuscita di me preso, corri corri, corri non ti fa vedere non ti fa vedere scappa qua sotto scappa qua sotto scappa qua sotto non ti fa vedere non ti fa vedere dai ragazzi, c'è a me è andata di culo uno sta a scappare dalla direzione opposta perché stavano anzi quei due e me è andata addosso preso vabbè, ti giochi della finale tifo per te ti seguirò quindi mo cariamo subito? si ecco ti 97.46 salta, salta salta vedi, bravo salta, salta salta eh salta 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 bravo salta salta più spinta eh, lì spinta ti devi da merda, sei caluto di due piani salta 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 devi rimanere il più tempo possibile salta 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 fino a ora non si è eliminato nessuno e occhio a questo che modi taglia la strada vedi vai, bravo bregò bravo c'hai solo tre persone sopra quindi non stai messo male male due persone sopra no dai bregò dai bregò ma che figlio di puttana non si dovrebbe dire uno è eliminato bregò quindi male che va arrivi ottavo questo è l'ultimo piano se cadi si è eliminato settimo cavolo tosca bregò sesto bregò vai remi remi nooo quattro no quinto quinto scusami mi dice sesto sesto e quindi per oggi il video di Fall Guys è tutto diciamo con i video di Fall Guys è tutto ragazzi se il video vi è piaciuto spolliciate se volete commentarci insultarci invitarci a giocare con voi perché come potete avete potuto vedere se possiamo anche creare partite da 60 persone basta che ci commentate ci contattate ci programmiamo potete venire anche su Discord per queste modalità di gioco se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina per le notifiche del video detto tutto detto questo vai bregò in bocca al lupo a still voletemi bene che non so come cazzo è io sono sempre in difficoltà su B&D voletemi bene ricordate un cuoricino quando mettete lì commentate con un cuoricino esatto un cuoricino per bregocca iniziamo subito col cuoricino per bregocca grazie ciao e alla prossima ciao ciao